bella a tutti raga bentornati in un nuovo video di jumbo vabbè questo intro mi è venuto adesso è scialla l'ho fatta mo questo oggi continueremo il continuo di bandern 2 comunque ho detto se supportate questi video ragazzi io c'ho altri molti video c'ho fifa 15 c'ho 14 poi c'ho helens 2 e io vorrei portare anche una serie su inazuman 11 striker per oggi continueremo malmen 2 io ho già fatto tutto regà ora spegniamo la luce voglio cagarmi sotto di brutto e ci vi lascio al glen bay dunque ci vediamo dopo allora regà come ho detto cominciamo molestern 2 del cazzo lasciato un joystick sono qua e cominciamo a giocare amazon 2 attualmente come vedete io sto registrando dalla tv dunque alla fine spero che si veda bene perché io spero che si veda bene ragazzi perché poi alla fine è quello che voglio cerco di sistemarlo bene così ragazzi non dobbiamo andarci sempre attorno io spero che si veda bene così si vede benissimo e possiamo incominciare vabbè ragazzi qua scripiamo perché tanto io già continuiamo allora continua continua trattamento e nemmeno continuare la partita di ieri io ragazzi ingrandisco un po così non si vede fuori dallo schermo della tv e vedete solo il gameplay regà io spero che tipologie di questi video vi piacciono ok ragazzi avessi si affermati qua io attualmente sono dopo più avanti che ho sbloccato le celle e dobbiamo andare avanti con questa serie andiamo qua c'è qualcuno or cazzo colore è fatti sotto regà quando salto da fuori giuro che mi sto già caca dove sei vieni vieni piglio di piglio di pip non posso dire però a questo tangono in piedi regà spero che sia morto perché non ci voglia di stare quasi ore qua c'è qualcosa no non c'è niente ok andiamo avanti nel nostro gameplay allora qua dobbiamo salire su per le scale penso ok stai a zitti che dice di uno ma ne ha martellata in testa penso che sia morto no ma porca puta non sei ancora vivo è buo ragazzi eh penso che sia morto no no è ancora vivo E mori Porca puttana Scusate se sono un po' cattivo Esistono livelli di sicurezza Più lungo Puoi conseguire l'accesso rapido Violento Vieni Vieni Questo è morto Questo che non ce li sai più Mamma mia sti qua Questo lo sta picchiando Lo sta ammazzando Qui non c'è niente da lutar Ho niente che potrei prendere Ok qua c'è la siringa Cazzo povero sto tizio Ma posso usare le cesoie? No non posso usare le cesoie Dunque dobbiamo uscire da questa porta qua Penso che quello l'ho Avete ammazzato di botte Regà non so cosa devo fare Vi dico la verità Perché non sto capendo Dopo aver ammazzato quello Qua sono andato Dove è tornare giusto secondo me Ok qua niente Questa è la postazione di prima Non penso che dovrei fare niente no? No non devo fare niente pure qua E cosa devo fare ragazzi? Non sto capendo Qua c'è il tizio crepato Qua si è aperto qualcosa? Niente Vabbè andiamo avanti va Andiamo avanti Cerchiamo di fare una bella cosa Un bel game blue Io non mi ricordo sempre Come faccio switchare arma Perché non Ecca Mi fai switchare arma Regà e allora devo entrare qua per forza Cosa devo fare? Ok Eh ho capito Questo non lo posso martellare Quello non lo posso martellare Questo non lo posso martellare Cosa devo fare ragazzi? Non sto capendo Ah devo uscire fuori Eh allora dimmelo prima no? Minchia regà veramente C'ho una sola in stigione Ma porca troia E chi l'ha visto? Oh e chi l'ha visto questo? Ma non mi ha fatto Dai un'altra morte Oh no Due contro uno Due contro uno No Regà no 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 Non ci sto Dai dai una martellata Porca troia Due contro uno Ma che cazzo Non ha fatto fa' Io non posso entrare Regà mi ha fatto cagare sotto Quello dietro Veramente Vi giuro Wow regà Aspettate un secondo Regà aspettate Mamma mia Che c'ho il cuore Che mi batta a mille Cazzo Pensavo di aver perso tutto Wow veramente Regà mi ha fatto cagare sotto Sto tizio dietro Ma porca puttana Non si fa così il gioco però eh Non si fa così Wow Regà c'è un siatone Ma ragazzi Io non so cosa dove devo andare Io faccio il giro di tutta la mappa Vediamo se magari Pecco qualcosa Questo cos'è? Ok qua non ci posso andare Ragazzi per me è tutto nuovo Non ci ho mai giocato Sto andando avanti con voi insieme Dunque per me è tutto nuovo Ok qua Eh buo ragazzi Non andò da nessuna parte E come entro qua? Non ho capito ragazzi Ma che due palle No veramente regà Non sto capendo Dove portarmi uno di questi scopi a presso? No Eh cosa dovevo fare ragazzi? Non ho capito La pizza non mi serve Questa non mi serve Che devo fare con questa? Ragazzi mi squish Vabbè mi tengono ci sono in mano Magari serviranno a fare qualcosa Perché non sto praticamente capendo Allora voi stai prendendo vicini i muri Ok Ma cosa devo fare? Non ho capito Ok Questo non mi serve Ammazzo Magari No ammazzo Non serve un tubo fico secco Il bicchiere patumi non serve Ragazzi non so come entrare Che giuro Questa è la porta secondo me Nasconditi i corpi Nasconditi i corpi Ah nasconditi i corpi Ah Eh vaffanbrodo Dimmelo prima No Ma ciscia roba Nasconditi i corpi Nell'oscurità E dove li nascondo? E dove li nascondo? Nell'oscurità E dove dimmi Ah qua Le butto qua? Vicino a sto cassonetto Va bene qua vicino a sto cassonetto Di merda Cazzo sta l'altro Morto Testa di cazzo Ma dimmelo prima Porca troia Cioè Ma porca Mi sono cagato sotto Pure quando questo Buttolo qua E lo nascosti Nell'oscurità No? No Mi sembra proprio di no Che la missione Non mi sia sbloccata Ah ragazzi Li butto laggiù Al diavolo Al diavolo Li butto laggiù E dove li buttiamo? Li buttiamo laggiù Nell'oscurità Li butto laggiù Allora Sì ma mi devo portare Ah e muoviti Ma mi sembra di portare A presso un ciccione Merda Di 90 kg Dai li butto qua Nell'oscurità Butta Lascialo lì Batta via all'altro Vai via all'altro Pia questo ciccione Cavolo Pia te la press Dai 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 Mamma mia Però così mi sta a giocare Mi fa consumare 10 minuti di video Per niente Che non corre Non corre Non si muove Boh Lascialo qua Eh le ho buttate Nell'oscurità Poi che devo fare? Ah ma ancora si Ma i ragazzi Devo fare Non sto capito Che cazzo Devo buttare Sti corpi Ah qua ci sta Andromozza No raga Veramente Devo buttare Sti corpi Ah finito Finito Qua questo Entra nei camion Cosa devo fare? Perché entro nella spazzatura Poi? Perché non l'ho ammazzato? Risveglio Completato Ah ok Risveglio L'ho completato Ragazzi Ma ci salviamo Naturalmente Nel episodio 3 Sì ok Fatto Risalvato Risveglio L'abbiamo completato Abbiamo bisogno Qualcosa La ragione Felita Ok raga Ho capito Da quello che ho capito Ragazzi Lui ci rimane secco Sono sicuro Che ci rimane secco Però ho capito Che questi Praticamente Noi siamo Tipo degli esperimenti Così Da quello che ho capito Poi dopo Non lo so Da quello che ho capito Dobbiamo scappare O cercare di fare qualcosa Però vediamo Ragazzi Comunque dovete supportarvi Ragazzi Io voglio portarvi Stasera Fino alla fine Dunque ragazzi Dove Sei un cacciatore Incappato Puoi investire Ok Per evitare Di muovere Vistotini Immobili Telecomando We Non muoverti Ma non mi sono mosso Cazzo Oh non ho pure No Accanto cazzo Levano Raga ma levano un botto Ma levano un botto Ma raga Oh guarda qua Mi sta massacrando Sto zocco Amore Maronna mia C'è tu Sante Ok Gameplay Ma Un po' Favol Mi da Fia questo Ma Che Merda Ma devi proprio Sboccare Fammi capire Dai Esci Ah non si esci Di quadro Usci di quadro Per forza Cazzo Sto cosa Che c'è di mano Non muoverti Regali Non mi sono mosso Cioè Non muoverti Non mi sono mosso E beh fatica Regali Cosa devo fare Ok Qua c'è un tizio Non muovermi Regali L'ammazzo Tutto E' muore E' muore Ok Prendi Prendi piedi Porco Prendi piedi Muoviti Regà sto sudando Come un coglione Aspettate un po' Che mi slaccia la maglia Perché sto sudando Come un coglione Ma non sai Ma che me ne frega Mete il cassonetto Mongoloide Eh mo che succede Mo si è pallato E' già morto Ma porca troia No no E' uscita qua E' uscita qua Che mi cago sotto Ok qua Non c'è niente Possiamo andare avanti Ragazzi Qua Mi hai fatto cagare sotto Non muoverti Non mi sono mosso Che mi muovo E poi mi ha fatto ammazzare Raga a parte che questi cosi Levano un botto Cioè mi ha levato mezza vita Per niente Allora qua devo uscire Ragazzi non sto capendo Che cazzo sto andando Aspettate Sono qua Allora dobbiamo andare di qua Penso Poi di qua Ah devo andare Devo strisciare sotto Eh dimmelo prima E poi mo Penso che c'è da salire Sul cassonetto Penso Sì Ragazzi lo porterò Un po' più lungo Sto episodio Così si capisce bene Non lo interrompo a metà Ci siamo Sai ragione Di una droga qui Ah Stavano facendo le droghe Eh vabbè Lascia fare la bamba in pace Pure io vorrei fare la bamba in pace Entriamo in casa Penso Premi A Per rompere la catena E come la rompe la catena Premi A Eh sto premendo A Però non me la fa rompere Si vede che mi serve Qualche altro attrezzo Se non me la fa rompere la catena Vediamo se troviamo Qualcosa in giro Ragazzi No Niente Premi A Sto premendo A Porca puttana Pista a porta Del cactus Vabbè regà Io direi di salutarci così Allora aspettate Ok Ah aspettate Forse potrei Switchare con questo Ma che cosa serve questo No Questo non mi rompe la catena Proviamo con i piedi di porco Ah si Posto 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 Ok Finiamo sto episodio Ma che cazzo Guarda regà Mi sto cacca sotto Non mi spuntare niente da qua Non mi spuntare niente Il progetto è stato qui Ok Mi ha scoperto che Almeno il progetto È stato in questo Buco di cercare Tutti gli armati Ok Vabbè regà Allora Aspettate che Mori accendo la luce Che è così Bella regà Allora Io vi spiego Io vi spiego Durante il prossimo episodio Riporteremo sto video Sul nostro Riporteremo sto video Sul nostro canale Io comunque ho visto Porca Oh regà Sto telefono è imbecillito Parte quando vuole lui Forse come il padrone Come il padrone Telefono imbecillito Poi del paciente Regà A me sto gioco Sta piacendo un sacco È un po' complicato Da giocare Perché la prima volta Che ci gioco È un video che comunque Ho fatto Poche volte Perché ho fatto una partita Solo in questo gioco Che non ci vorrà capire Come andare avanti Se questo gioco Vi piace Raga Supportate con tanti Visualizzazioni Polizioni Comunque Come volete voi A me sinceramente A me piace portare Mi piace portare video Raga Perché io vorrei fare Anche delle serie Su questi altri due giochi Io naturalmente Questo ci ho già giocato Un bel po' E l'ho già finito Però vorrei portare Anche delle altre serie Se le volete Ragazzi Scrivetemelo sotto Nei commenti E io ve le porto Raga Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Scusate sia un po' lungo Ma io Ricordatevi che vi piace Fare quello che devo fare Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione su Ragazzi Saluti da Inciambo Ciao